Cari amici bentornati in questo nuovo video, oggi torniamo a parlare di De Luca, cerchiamo di dar seguito alle ultime notizie che abbiamo dato su questo canale ed oggi torniamo con una buona notizia, il legittimo e le maschine di De Luca pronta la task force di avvocati così il senatore Grassi della Lega sta lavorando una nuova rete legale per difendere gratis i cittadini dell'ultima ordinanza amici campani non disperate c'è qualcuno che fortunatamente è dalla nostra parte finalmente allora vediamo un attimino nel dettaglio di che cosa si tratta ovviamente viene immediatamente contestata l'ultima ordinanza di De Luca fatta qualche giorno fa vi lascio qui da qualche parte il video in cui ne parliamo sostanzialmente qui dicono che Vincenzo De Luca non ha fatto in tempo a farsi riconfermare governatore della Campania che con un'ordinanza reso obbligatorio in tutta la regione l'uso della mascherina anche all'aperto c'è un problema però, gli esperti campani di ogni ordine grado sostengono sui giornali locali che i contagiati sarebbero cresciuti in regione soprattutto a causa dei giovani che si assemblano continuamente anche al chiuso senza alcuna misura di protezione se questo è vero non si comprende come l'obbligatorietà della mascherina all'aperto per tutti possa essere un deterrento a comportamenti ritenuti scorretti e ridurre i contagi il solito De Luca e lo stesso governatore che tempo fa lo ricordiamo molto bene minacciava l'uso del lanciafiamme contro chi organizzava feste di Laura ma che nella fase più drammatica della pandemia neanche si sognava di usare lo stesso piglio autoritario per fermare i treni e le auto che dal nord entravano in migliaia in Campania stesso comportamento permissivo, eravamo in campagna elettorale con i tifosi del Napoli quando alla vittoria della Coppa Italia si abbracciavano per strada a migliaia non dimentichiamo amici qui fanno un breve accenno a quello che poi abbiamo vissuto nei mesi a seguire porto il cane a passeggiare, sono solo col cane nel raggio di 100 metri passo una pattuglia e mi multa no, scusate, ma è così una vestazione razionale amici, l'abbiamo detto e ridetto in più video insomma comunque qui viene ripetuto perché giustamente bisogna ricordare e comunque andiamo avanti, vediamo un attimino qui fanno un accenno a delle questioni politiche visto le sue competenze giuridiche gli abbiamo chiesto se questa ordinanza al pari dei PCM del Presidente del Consiglio di Giuseppe Conte sono davvero impugnabili e sono illegittime allora che cosa risponde Grassi? l'argomento più forte è quello che incidendo su diritti indisponibili o meglio su diritti che la Costituzione che per Costituzione possono essere attenuati o vulnerabili solo da norme di legge ne deriverebbe la loro illegittimità già che l'attenuazione o la complessione di questi diritti è avvenuta con norme di rango inferiore è quello che ripetiamo spesso amici la legge, la legge così come intesa per Costituzione non prevede, o meglio prevede che non bisogna andare, che non si possa andare in giro imbavagliati e questi signori con DDPCM, con delle ordinanze regionali provano e tentano di essere superiori alla legge e questa è una cosa contestabile ormai da tempo, da mesi che lo stiamo dicendo questo vale ancora di più per la semplice ordinanza emessa dal governo De Luca o sbaglio, non solo volendo anche rimanere all'interno della valutazione dell'atto amministrativo in quanto tale a mio giudizio presenta un vizio di legittimità per eccesso di potere l'eccesso di potere è il tipico vizio dell'atto amministrativo che in pratica quasi entra nella valutazione del merito dell'atto tenga presente che in diritto amministrativo in linea di massima il merito non è sindacabile perché attiene al cuore della decisione e non è che ogni volta la pubblica amministrazione decide se gli si dice avresti dovuto decidere diversamente perché si andrebbe a toccare la libertà valutativa della PA la cosiddetta discrezionalità della PA, giusto? esatto però si ritiene anche che quando la discrezionalità è usata davvero in modo abnorme senza congruenza rispetto ai fatti, aggiungerei, senza proporzionalità cari amici la libertà della discrezionalità amministrativa trova un limite in quello che si chiama eccesso di potere e nel caso di De Luca poi viene chiesto è un eccesso di potere considerato anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico che addirittura nella fase di massima recludescenza della pandemia aveva detto al governo che non si doveva chiudere tutte le regioni adesso che siamo in una situazione migliore per quanto ci siano segnali di una qualche certa ripresa in un quadro generale che fai? ripristi in un obbligo così gravemente limitante e tra l'altro comprometti la salute umana perché respirare una mascherina non fa bene è acclarato senza una reale giustificazione ci sono gli estremi per impugnare l'ordinanza yes, gli estremi per l'illegittimità dell'atto per eccesso di potere secondo me ci stanno tutti molti esercenti e cittadini campani gentilmente colpiti dalla crisi di Roma ok qui andiamo avanti sarebbero procedimenti di fotocopia corrigosti ai prefetti o nel caso di controversa giudice di Paso che è una buona idea nel gruppo regionale della Lega vediamo la risposta amici poi ovviamente vi lascio l'articolo qui sotto nella descrizione nel caso vogliate leggerlo cerco di darvi un'idea così sommaria allora è un'ipotesi su cui la Lega sta lavorando non solo siamo nella situazione di marzo scorso in obbligo di maschina 24 ore su 24 come si potrebbe giustificare al massimo se fossimo nella fase apicale ma non è così c'è un'illogica manifesta presto avremo una riunione per decidere come muoverci quindi ci farà sapere come si metterà in campo la rete e a chi i cittadini si potranno rivolgere presto ci risentiremo allora cari amici ovviamente continueremo a tenervi informati su questa questione questo ormai è il terzo o il quattro video che pubblichiamo su De Luca abbiamo preso a cuore anche perché ci sono tanti campani che seguono il nostro canale e vorremmo insomma dar loro un servizio eccesso da questo punto di vista non appena avremo aggiornamenti su come poterci su come potremmo muoverci da questo punto di vista non esiteremo ad aggiornarvi vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se non siete iscritti attivate la campanella per ricevere tutti i prossimi aggiornamenti un caro saluto un caro abbraccio e ci vediamo nel prossimo video ciao